Ciao a tutti, oggi destinazione Bosco del Valle e Bosque Grande. Lunata stupenda, siamo passati alla croce del bosco e adesso stiamo andando in direzione del Crutin del Cerro. Ciao ciao! From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Sometimes you need to go Take a step back To see the truth around you